Il Comune di Padova eroga il bonus secondo figlio a tutte le famiglie residenti nel quadro delle misure adottate per il sostegno alla famiglia a integrazione dei contributi statali, quali l'assegno di maternità e l'assegno alle famiglie con almeno tre figli minori. Dal 2009 il bonus è fissato 700 euro per il secondo genito o figli successivi. Nel 2019 sono stati erogati 193.200 euro come contributo secondo figlio. A fronte di 270 domande, a 264 è stato erogato il contributo di 700 euro, a 6 è stato erogato il contributo di 1.400 euro in quanto parto gemellare. Nel periodo gennaio-luglio 2020 sono stati erogati 76.300 euro a fronte di 108 domande di cui un parto gemellare. Oggi in giunta il tema torna attuale perché si è reso necessario disciplinare le modalità di presentazione della domanda del contributo comunale. Il Comune si è uniformato quindi alla normativa nazionale e si è stabilito il termine massimo di sei mesi dalla nascita del figlio, quale limite per la presentazione della domanda.